è arrivato il momento per mettere alla prova i nostri look più innovativi benvenuti al si parlerà di look e di caldo lo so fabia mi spiace molto ma è che non so cosa ho toccato ma l'aria condizionata sembra un forno puoi dirlo forte invece di uno studio sembra una sauna beh non preoccuparti con un ventaglio e la challenge di oggi staremo al super fresco oggi è venuta al vipets challenge show carla viene con la scintillante jasmine e la bellissima aurora che riempiranno lo studio di freschezza poverina guarda com'è già accaldata tranquille tranquille la soluzione sta nel challenge di oggi lo splash challenge dovremmo bere entrambe delle granite no no pettineremo immerse nell'acqua fresca oh sì sì piena di ghiaccio no no è molto più bello tada nel look challenge di oggi dovrete pettinare le nostre vipets schivando gli spari della mia pistola ad acqua questa volta la pettinatura sarà scelta però dovrete includere una treccia di adema chi farà la pettinatura più bella in un minuto vincerà faccio partire il cronometro col conto alla rovescia qualche domanda ma quando finiamo possiamo bagnarci beh probabilmente finirete già bagnate fabia pettinerà jasmine e carla pettinerà aurora ai vostri posti a pettinare ricordatevi che non potete copiarvi mi sto controllando è incredibile carla sta già facendo la treccia sul serio non importa ho cominciato la mia treccia la faccenda si complica l'atmosfera incandescente e gli spari aumenteranno scotta tutto sì non so cosa scegliere e bagnarmi vincere il challenge sono allibito dalla concentrazione di carla ha già finito la sua treccia di adema vediamo cosa fa fabia l'ha fatta anche lei e ora l'acconciatura se si bagna l'acconciatura il look sembrerà slavato zio non portare sfortuna oh sì mi sta rinfrescando oh fabia che peccato stavi andando così bene andiamo a vedere carla sembra che le darà il tocco finale con un accessorio beh allora faccio il tipo per lei puoi farcela concentrati sul look l'ho finito bene abbiamo una chiara vincitrice carla il suo look è fantastico è stata una sfida difficile però super divertente mi è piaciuta certo fabia non era così complicata era tutta questione di concentrazione equilibrio e si vede super facile ora prova a pettinare una vipette unitevi alla sfida e taggateci sui nostri social network non vediamo l'ora taggate anche uno dei vostri amici è super divertente noi due vi sfideremo e voi creerete i look non sta paura inizia l'avventura I love it best non sta paura inizia l'avventura